Oggi ragazzi un video extra al volo perché sono con Giorgio Deidilang Doggofili e lo ZACCA di El Forum Zagortenai per parlarvi di quello che succederà in questi due giorni a Lucca Collezionando e di un'iniziativa che tutte le web community hanno fatto insieme. Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui con i ragazzi di ZagorFanTV perché ci presenteranno l'iniziativa della web community che verrà presentata a Lucca Collezionando il 2 e il 3 di aprile prossimo. Ciao Manuel. Ciao Manuel. Ciao Gianluca. Ciao. Io sono Giorgio, mi presento e la mia volta che sono... Vai Giorgio, vai tranquillo. Sì, sì, sono Giorgio Santoro dell'associazione Dilang Doggofili, voglio ringraziare Manuel e ZACCA per questa occasione che mi hanno dato di partecipare a una vostra live e oggi sono qui per parlarvi del progetto che alcune associazioni hanno portato avanti insieme e che presenteranno a Lucca Collezionando che si terrà nei prossimi giorni appunto a Lucca nel Polo Fiere. Le associazioni che hanno partecipato sono l'AMIS che riunisce tutti gli appassionati di Martin Mister, i Dilandog Gofili, il Dilandog Fans Club, il forum Zagortenai, gli Sterniani, il nuovo personaggio della Bugs Comics Samuel Stern appunto, e infine il forum del Papersera, quindi focalizzato ovviamente sui personaggi Disney. Abbiamo fatto per la prima volta un progetto condiviso che è stato votato dai vari rappresentanti delle comunità che hanno partecipato e alla fine si è deciso di realizzare un raccoglitore che permettesse non solo di conoscere le varie associazioni che hanno partecipato ma anche di contenere le cartoline realizzate appositamente dalle varie associazioni. In più poi c'è un extra di cui vi parlerò che verrà consegnato soltanto a Lucca Collezionando. Allora intanto vi faccio vedere in anteprima assoluta la copertina, molto semplice, ci sono sostanzialmente i loghi delle associazioni che hanno aderito, quindi Papersera, Dilandog Fans Club, Dilandog Gofili, Sterniani, AMIS e Forum Zagortenai, quindi il raccoglitore, cartoline realizzate in occasione di Lucca Collezionando, 2022. Il colore Tiffany non l'abbiamo scelto noi ma è uno dei colori della manifestazione. Il raccoglitore è uno spillatino, semplice sostanzialmente, siamo riusciti a realizzare circa una ventina di pagine e all'interno ovviamente c'è una pagina editoriale dove ci sono tutte quante le informazioni sulle associazioni che hanno partecipato, i nominativi e c'è un editoriale che ho scritto io, in quanto quest'anno sono io il coordinatore del progetto comune. L'intenzione è che ogni anno ci sarà un coordinatore differente che porterà la croce di coordinare tutti quanti. E poi in ordine al fabbico, come dicevo, presentazioni, quindi qui abbiamo l'AMIS, non so se questo vi permette di vedere, con il relativo spazio per Ina, cartolina Alfredo Urlandi. Poi il Dilan Dog, eccolo qui, la pagina di Dilan Dog Fanscrab, il cui disegno è stato realizzato da Luca Dell'Uomo, disegnatore di Dilan Dog. Scusa Giorgio, ti interrompo un attimo perché devo far vedere questa figata che è mostruosa, cioè dove va piazzata la cartolina, fai vedere bene, c'è una sezione del disegno in cui poi andrà messa la cartolina, cioè è una cosa spettacolare. Allora faccio vedere proprio la pagina del forum Zagortenai, quindi questo qui è lo stupendo realizzato appositamente Giovito Nudo per il forum Zagortenai, dopodiché, lo vedete questo riquadro, perfetto, la cartolina del forum, ma farò vedere poi anche le altre, verrà alloggiata, scusate se non sono abituato a ragionare, allo specco qui. Questo è come poi il raccoglitore una volta completato. Come funziona? Le azioni che partecipa a Luca con lezionando e che ha aderito al progetto comune avranno un certo numero di copia. Quindi il visitatore X verrà delirando a Gofili o al stand degli amici di Zagortenai ed acquisterà il suo primo raccoglitore e gli verrà contestualmente consegnata una cartolina. A quel punto comincia il giro a tutti quanti gli stand delle varie associazioni dove riceverà in omaggio, quindi acquista il raccoglitore, ma poi riceve in omaggio dai vari stand la cartolina realizzata da ogni singola associazione. Quindi dovrà raccogliere sei cartoline presso i sei. Una volta raccolte tutte e sei le cartoline, riceverà in omaggio e soltanto in occasione di Luca collezionando la cartolina speciale che dovrà essere alloggiata su questa pagina che è lavata proprio a Luca collezionando, dove praticamente andrà la cartolina che non è altro che il disegno che Berter D'Edera ha realizzato come locandina della manifestazione. Siccome conosciamo bene i nostri iscritti e immaginiamo che anche gli iscritti di altre associazioni siano più o meno allo stesso livello di materialità, abbiamo dato presto la possibilità di alloggiare queste cartoline attraverso l'utilizzo di triangolini ad esti trasparenti che vengono attaccati praticamente uno qui e uno dall'altra parte e quindi la cartolina viene alloggiata con grande semplicità, altrimenti uno lo può conservare separatamente, insomma farne quello che vuole. In ultima pagina c'è appunto la spiegazione su come funzionano i triangolini. Ecco qui, questo è il reto, Luca collezionando 2022 e vi mostro velocemente le, ne manca solo quella di Luca collezionando perché l'ultimo staff di Luca ce la consegnerà la mattina stessa del sabato. Allora, questa qui è la cartolina realizzata da gli sterniani, quindi un disegno inedito di Randazzo. Poi, questa qui è la copertina degli zagortenai del forum che già vi avevo mostrato. Questa è la nostra cartolina realizzata apposivamente da Uri. Questa è la cartolina realizzata dagli amici del Paversera grazie a una bellissima matita di Mastantuono. Questa qui è la cartolina realizzata invece dal Dylan Dog Fans Club e il disegnatore, come dicevo prima, è Luca Dell'Uomo. E infine abbiamo quella che secondo me ha vinto la manifestazione è quella di Martin Misteri, già da Franco Orlandi in cui praticamente viene richiamato una celebre scena esattamente e qui abbiamo il mitico Alfredo Castelli più oltre tutti quanti gli altri personaggi della serie di Martin Misteri. Quella è bellissima. Concordo, no no, i ragazzi, guarda, sono tutte bellissime le cartoline ma devo dire, i ragazzi di Amis, quest'anno l'hanno vinta loro. Tutte le cartoline, come è espressamente scritto dietro, sono state realizzate in 600 esemplari e su ogni cartolina ovviamente ci sono tutti i riferimenti di contatto delle varie associazioni. Quindi è un modo per noi associazioni di farci conoscere quindi il gofilo che verrà all'ostende, acquisterà il raccoglitore avrà modo, dovrà per forza conoscere anche gli amici del forum Zagortenai e tutte quante le altre realtà appunto che hanno partecipato. Io credo che questa iniziativa comune ha permesso di rinsaldare i rapporti di quelli che sono riusciti a portarli a termine. Davvero mi auguro che sarà soltanto il primo delle iniziative che andremo a realizzare tutti insieme come community del fumetto. Molto bella come iniziativa, quanto viene il raccoglitore? Verrà venduto prezzo fisso di 15 euro, quindi un raccoglitore a colori ma insomma io adesso non riesco a farlo vedere ma è una carta di... No no ma si è visto ma penso che già... Una bella consistenza, dei begli effetti... Formato a quattro? Esattamente, formato a quattro, interamente a colori, plastificato... Ma penso che già solo le cartoline varrebbero i 15 euro, no? Esattamente, alla fine sono sette cartoline all'interno, esattamente. Sette cartoline con disegni inediti, di grandi disegnatori, quindi... In tiratura limitata. Esatto, e quindi c'è... E lo stesso raccoglitore... E anche autorizzato Bonelli, è cosa importante. Tutto è stato autorizzato dai rispettivi editori. Io qua adesso non riesco a farlo vedere bene ma qui c'è scritto che questo raccoglitore è stato realizzato in 600 esemplari. Io mi auguro che lo stanno mettendo a fuoco, ma il concetto è questo. Bello, bella iniziativa. Molto, molto bella. E poi... Guarda, devo dire che io e Zacca volevamo fare i francobolli, però purtroppo, o per fortuna, la maggioranza ha voluto invece optare per le cartoline, quindi questo è il risultato. Però se io e Zacca l'anno prossimo teniamo duro, porteremo avanti il progetto dei francobolli sicuramente. Lo vedremo, vedremo. C'è tempo, è entrato, godiamoci questo. E' una grandissima iniziativa, è una grandissima iniziativa che già nelle varie web community si è avuto un riscontro di moltevole successo. Quindi, secondo me, a Lucca sarà un punto di riferimento per chi verrà a Lucca avere questo raccoglitore con le cartoline. Secondo me sì, perché diventerà veramente la cosa da fare a Lucca quei due giorni, oltre che girare la fiera. Sì, poi teniamo presente che molti dei disegnatori della cartolina, ad esempio per noi Gioio e Vito Nuccio, sarà lì presente tutti e due giorni, quindi potrà autografare la cartolina e ci sarà anche la stampa, anche questa autorizzata a Morelli, che potrà dedicare e firmare, ci sono gli orari, le firmatopie già prestabiliti. Quindi, insomma, sarà, secondo me, una Lucca bella, piena, la gente ha voglia di venire, secondo me ci saranno un sacco di cose. Poi abbiamo fatto gli arcade, ci saranno delle aree apposta, insomma, ci saranno tante sorprese. Soprattutto fumettosa. Fumettosa, molto fumettosa. Esatto, che è quello che ci aspettiamo. Sì, 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 sì. Senza l'unodio a tutto quello che è il contorno. No, 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 ma noi quando abbiamo contattato i disegnatori, cioè avevano già loro stessi un entusiasmo di poter riprendere il contatto con i lettori, con i fans, con i gruppi. Cioè, anche loro ne hanno proprio bisogno. Io quando ho chiamato, in questo caso, Nuccio, che viene da Palermo, ai ragazzi, quindi voglio dire, non è che sta lì. E ho chiamato Laurenti, Mangiantini, quindi tutti entusiasti, tutti con la voglia di stare con la gente, con i fans, col pubblico, per fare due chiacchiere, per fare uno sketch, per fare una firma. Insomma, anche loro ne hanno proprio voglia. Eh sì, è mancata un po' questa cosa. Tre anni. Eh, appunto. Quindi è assolutamente bello, 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 bello. Bello, ok. C'è altro che dobbiamo spiegare? Sì, approfittiamone per dire un'altra cosa, che insieme a Ottobit ci sarà un'altra grande iniziativa, sempre per coinvolgere, c'è già una battaglia, insomma, no? Una cosa che ci piace portare avanti, che Manuel sta già facendo da tanto tempo, di avvicinare i bambini al fumetto. Quindi ne approfittiamo anche per dire questa cosa. A chi verrà lo stand del forum da Gortenai, Manuel sarà presente, lui come canale, come lui come persona, e regalerà a ogni bambino un topolino, un album di topolino a tutti i bambini che verranno alla mostra, accompagnato dal genitore chiaramente, ma che saranno presenti, verrà regalato un album di topolino. Quindi anche questa è un'iniziativa per far avvicinare i giovani al fumetto e per dare qualcosa in più a questa Luca Collezionato 2022. Esatto, perché se non cominciano a leggere i bambini... Ci puoi dire qualcosa tu, Manuel? Sì, io come canale molto spesso ho ricevuto il regalo, perché sai, quando vedi una persona che ha la passione, invece magari che venderli per due soldi o che appunto buttarli, li mandi a una persona che sai che li costituirà e che li avrà con cura questi fumetti, ma me ne hanno mandati tantissimi. Io ovviamente mi sono tenuto quelli che mi servivano, ma ho una valanga di doppioni. E quindi che cosa farne? E ho detto perché non regalarli ai bambini? Quindi ogni bambino ci avrà, se gli prende la voglia di leggere, la passione di leggere, visto che si ritroveranno in mano un numero di topolino, poi in mezzo ho trovato anche tanti numeri di Zio Paperone, di Paperinic, di Minni, quindi c'è anche comunque tutto fumetto Disney, tutto fumetto per bambini, sperando che molti poi si appassionino e dicono ah, ho letto questo topolino magari di tre o quattro anni fa, adesso papà mercoledì mi compi topolino? E che quindi magari arrivino nuovi lettori, anche perché se non c'è un ricambio generazionale fra un po' ci troveremo con un calo ancora più grande di lettori, insomma, quindi questo è lo scopo. Un'ultima cosa voglio dire, datemi un secondo, guarda Manuel, tu mi trattieni. No, ecco, volevo approfittare di questa cosa, per me un'altra allora iniziativa a cui io tengo molto. In Italia c'è una biblioteca che si chiama Biblioteca delle Nuvole, che si trova a Perugia, ed è una biblioteca comunale che di fatto si occupa di dare in prestito per mettere a chi la frequenta di leggere fumetti. ed è l'unica in Italia veramente così accessibile e così aperta al pubblico. Ripeto, è una biblioteca comunale. Io quando andavo a Perugia, ormai un po' di anni fa, come amico di studenti che stavano a Perugia, andavo alla Biblioteca delle Nuvole, mi prendevo i Dylan Dog, me li portavo a casa dei miei amici e me li leggevo e poi ovviamente li restituivo. Per cui, se mai ti dovesse capitare di avere altre donazioni importanti, oltre a queste bellissime iniziative che portano bambini piccoli, diciamo, avvicinano i bambini alla lettura, se mai ti dovesse capitare di poter contribuire con una donazione anche piccola alla Biblioteca delle Nuvole, trovi tutte quante le informazioni sul loro sito, appunto Biblioteca delle Nuvole di Perugia, sono delle persone veramente speciali. Tutto il materiale è lì. Grazie, e tra l'altro chi sentirà questo, chi guarderà questo video, può a sua volta scontattarli per... Io invito, anziché buttare i vostri fumetti, come dice giustamente Manuel, esistono delle realtà reali, concrete, serie, patrocinate dai comuni, come in questo caso, che si occupano proprio della conservazione, della diffusione, della promozione del fumetto. Siccome noi lettori, siamo lettori di fumetti da tanti anni, ci teniamo a questo medium, credo che possa essere una buona cosa, oltre che inviarli a Manuel, ma in generale rivolgersi a queste Biblioteche, a queste realtà. Meglio che buttarli. Meglio che buttarli. E certo, assolutamente. O magari rimordi al mercatino e per due o trecento fumetti ti danno 20 euro che non ti cambiano la vita. Esatto. Poi magari stanno lì a marcire in un negozio. Esatto. Io segnalo la Biblioteca, mi permetto di segnalare la Biblioteca delle Nuvole di Perugia. Hai fatto benissimo. Allora, ultima cosa, per quanto riguarda l'accoglitore delle cartoline, noi delle web community, che siamo un po' maniaci, un po' collezionisti, abbiamo deciso di fare anche una cartolina particolare, che si dovrebbe vedere. Questa è una cartolina, l'abbiamo chiamata... Sì, aspetta. Sì. Vai. Vai, ecco. Eccola. La cartolina numero zero che non è altro che la riproduzione della copertina dell'accoglitore, l'abbiamo chiamata numero zero. perché abbiamo voluto, come posso dire, suggellare questa iniziativa di queste serie web community mettendo i nostri loghi in questa cartolina e a parte del raccoglitore. Però, chi vorrà, ci sarà la possibilità di avere anche questa cartolina. La troverete nei vari stand. È giusto per, come dire, una cosa a ricordo che ci è piaciuto fare a noi per suggellare questo evento e questo lavoro fatto insieme. anche perché il fumetto dovrebbe unire e non dividere. Esatto. Esattamente. Eh, lo so, lo so. Eh, lo so. Quando uno deve tendere. Quando uno deve tendere. Quando uno deve più passione diventa qualche altra cosa. Allora. Diventa complicato. Io personalmente, personalmente, sono un lettore di D-Landog, ho fondato l'associazione di D-Landogofili per cui non potrebbe essere il contrario, ma mi piace dire che leggo e apprezzo moltissimo Zagor e devo dire anche Tex. Io lo leggo tutti i mesi di Zagor per cui in parte mi sento anche uno zagoriano. Oggi ho visto che lo Zacca pubblica le foto di D-Landogofili che lo compra per cui insomma massimo rispetto. I miei acquisti di oggi sono stati D-Landogofili e Zagor. Sono tornato a tale ridicola con questi due acquisti oggi. Ma anzi, uno dovrebbe essere anche incuriosito dal lavoro di un'altra associazione proprio per vedere che cosa fanno, che idee ci hanno, che... quindi secondo me boh non... Ma guarda, ma è così. Noi, io ti dico la verità siamo molto soddisfatti di quello che ormai da dieci anni facciamo come D-Landogofili ma noi proprio nasciamo sulla scorta e sull'esempio di quello che ha fatto l'AMIS che è l'associazione dedicata a Martin Mister e che attualmente è l'associazione più longeva diciamo dedicata al fumetto. Non la più antica perché in passato ce ne sono state altre che però hanno chiuso per varie ragioni. Però l'AMIS è quella che oggi è attiva da più tempo e devo dire la verità loro hanno sempre fatto delle bellissime iniziative che per noi sono state un esempio e di riprodurre sempre nel mondo. Facendole tutte insieme viene fuori un'iniziativa migliore perché c'è lo sforzo di più persone e le risorse di più persone e quindi io sono d'accordo. Io sono d'accordo. Io sono d'accordo. E certo e questo è già beh già il fatto che quest'anno siate riusciti tutti insieme a fare questa iniziativa già secondo me è un passo fondamentale insomma quindi ormai la strada è tracciata quindi da adesso in poi tutti uniti. Esatto. Allora io credo che per questa breve presentazione delle cose di Luca sia tutto credo che non ci sia vogliate aggiungere qualcosa sì salite in macchina o salite sul treno e venite a Luca esatto venite a Luca ti vediamo a Luca esatto grazie Giorgio grazie Zacca grazie grazie